Vi faccio vedere una cosa molto particolare. Tutti gli spettatori dicono che i maghi nascondono gli oggetti nelle maniche e non hanno tutti tolti. Questa giacca in particolare ha un tessuto un po' magico, ve lo faccio vedere. In particolare vi parlavo delle maniche e questa giacca, bisogna tirarla fuori, ma ha dentro qualcosa di particolare, inaspettato, inatteso. Cristallino come un bicchiere d'acqua.